E' scomparso a 56 anni Steve Jobs. L'annuncio è stato dato nella notte sulla home page del sito. Apple ha perso un genio creativo e visionario e il mondo ha perso un formidabile essere umano. Quelli di noi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo abbastanza e di lavorare con lui, si legge ancora sul sito, hanno perso un caro amico e un mentore ispiratore. Steve lascia una società che solo lui avrebbe potuto costruire e il suo spirito sarà sempre il fondamento di Apple. Jobs, lo scorso 25 agosto, aveva annunciato le dimissioni irrevocabili da AD di Apple a causa della malattia che l'aveva tormentato e consumato per anni. Il presidente Obama ha commentato così la scomparsa di Jobs. Il mondo ha perso un visionario e non ci può essere maggior tributo al successo di Steve che ricordare che la maggior parte del mondo ha saputo la notizia della sua scomparsa sui computer che lui stesso ha inventato.